...i morti, tu mi santo, con le guardie sei andata a prendere. Ve lo faccio con due reti, per interrogare. Centonioni, 11 notti. 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 questo domanda a coloro che mi hanno detto, essi, essi sanno qual è la mia voce. Scellerato, vuoi rispondere al grande sacerdote? Dicci, se tu è Nazareno, io ti scongiuro per il Dio vivente, se tu è il Messia. Lo so, l'ora di tanzi vedrete il rito dell'uomo, sedere alla destra di Dio. Che bisogna abbiamo, Dio, anche testimonianze? Avete dito tutti la sua bestemmia, quest'uomo è reo, è reo di morte, a morte, è reo, è reo di morte. Cendurione, ti sei condotto da più alto. Cendurione, ti sei condotto da più alto. Cendurione, ti sei condotto da più alto. Grazie a tutti. 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 Tuo figlio, ti lascio a Giovanni. Giovanni, ecco tua madre. Madre, non ti lascerò mai sola. Mi sopplico, dàtemi nell'acqua. Calme tua mia, calme. Cuore del mio cuore, figlio mio, mi morire da te. Dio mio! Dio mio! Perché? Perché? Mi hai abbatonato! Padre! Nelle tue mani! Consegno il mio spirito. Tutto. Tutto. Ecco. Tutto. Lei. Contato. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.